Una novità assoluta per Arezzo, un festival con spettacoli teatrali a tema scientifico. Quali saranno i nomi in calendario? Abbiamo progettato questo festival che ambisce ad essere tra i grandi appuntamenti culturali, direi italiani, perché i nomi sono di assoluto prestigio. Abbiamo organizzato con l'aiuto preziosissimo non solo dei nostri sponsor, che a sua volta sono delle eccellenze del territorio retino, ma anche con la fondazione, il comune, la regione, la biblioteca. Iniziamo sabato 4 febbraio alle 21 al Teatro Petrarca con Pier Giorgio Di Freddi, uno dei più importanti intellettuali italiani, il quale ci porterà all'interno delle dinamiche dell'intelligenza artificiale. Poi avremo per il mondo della matematica il professor Zellini, nel mondo della fisica e astrofisica Gabriella Grayson e Tonelli, nel mondo delle neuroscienze vegetali, quindi della botanica, il professor Mancuso e poi vi sveleremo l'ultimo ospita sorpresa il giorno dell'inizio del festival. È un'iniziativa che è appunto quella della divulgazione scientifica attraverso conferenze spettacoli e spettacoli teatrali che mancava e devo dare atto alla vitalità delle associazioni a retine, perché da soli non ce l'avremmo mai fatta. Sei appuntamenti, tutti di sabato, tutti in concomitanza con la fiera antiquaria. Sì, questa è una scelta da un lato molto intelligente, perché chiaramente i sabati per eccellenza da Rezzo sono quelli della fiera e quindi avremo anche un pubblico potenziale maggiore, ma sono anche scelte coraggiose perché il sabato sera c'è tanta concorrenza. Spero che la risposta sia ampia della città, ma anche da parte dei giovani.